buongiorno amici un piccolo video per raccontarvi cos'è avvenuto qualche giorno fa qui al salottino blues abbiamo avuto ospite nel nostro salottino un grandissimo artista questo artista è un po' di tempo che io lo seguo musicalmente ha fatto diversi album di cui l'ultimo inciso a heavy road e subito dopo l'incisione di questo album ci siamo sentiti e l'ho invitato qua al salottino per fare due chiacchiere è stato qua una sera insieme a me a parlare del più del meno come succede qua nelle interviste al salottino blues e questo artista un grandissimo countryman stiamo parlando di chris mantello l'intervista sarebbe dovuta durare 30 40 minuti ma è stato così piacevole chiacchierare con lui e soprattutto così bello scambiare delle idee nel mondo della musica poi ci ha fatto sentire alcuni pezzi con la sua telecaster una chitarra fantastica che è durato un po' di più è durato abbiamo sforato abbondantemente un'ora e mezza di intervista non ho voluto appositamente mandarla tutta in un episodio perché vi avrei annoiato un'ora e mezza veramente tanto stare davanti a youtube e quindi ho voluto frazionarla in tre puntate e quindi vi aspetto il 21 il 23 e il 25 ottobre alle ore 19 venite sul canale youtube a vedere questa meravigliosa intervista a chris mantello vi faccio conoscere che musicista è che persona è una persona squisita persona eccezionale bene vi attendo ti ripeto il 21 il 23 il 25 ottobre alle ore 19 qui al burn and lose per questa mega intervista a chris mantello amici lunga vita al blues buona continuazione vi aspetto